Allora, una sola frase, compressione differenziale remota. Ok, che cazzo ho detto? Questo servizio bisogna disabilitarlo solo ed esclusivamente per persone, utenti che usano poco la rete, non la rete, ricordatevi sempre non internet, ma la rete, cioè il trasporto di dati da un computer all'altro, fin quanto sono pochi, o si tratta di un file da 1, 2G, 4G, un videogioco e un conto. Invece se si trasportano molte, ma molte cartelle, per esempio dati, FTP, dati sensibili, cronologie, tutto il resto, quello che volete voi, allora non disabilitate. Potete già chiudere il video, per chi usa molto la rete e che trasporta molti file alla volta, ecco. Ora, come bisogna in caso disabilitare questa cosa qui? Start, pannello di controllo, andiamo nella programmi e funzionalità, eccolo qui, ed adesso andiamo su attiva o disattiva le funzioni di Windows. Aspettiamo che attende il caricamento delle nostre funzioni, qui ci sono altri tipi di funzioni, ma io vi consiglio di non toccarle da questa parte, perché l'abbiamo già fatto nei video precedenti nell'area amministrativa, cioè nei service.msc. Dobbiamo solo cacciare la spunta su compressione e compressione differenziale remota. Cacciamo la spunta, premiamo ok, bisogna attendere che l'operazione, ecco c'è scritto, bisogna attendere l'arresto dell'operazione, una volta arrestata l'operazione, bonjour, ecco qui, si chiude automaticamente e non dovete fare niente. Non ripeto di nuovo a che cosa serve questa operazione che abbiamo fatto, perché se no scrivete qua sotto, se no se dalle il crap, l'ho spiegato due volte di fila, minchia che ho fesso, chiedo scusa, sono un pochino nervoso oggi. Benissimo, grazie ancora per il vostro interessamento, guardatevi i video precedenti che vi serviranno e basta, arrivederci.